Quando uno si unisce in matrimonio, quando scegli di stare con un'altra persona, ogni volta che apre gli occhi al mattino e dice, anche oggi ho scelto di volerti bene, di amarti, perché ogni giorno è un giorno da riscoprire e da fare. Non potete aver paura di nulla e vi ritroverete magari sicuramente fra 25 anni a ringraziare il Signore, fra 50 anni e ancora di più e con tutte le benedizioni che il Signore vi darà. Grazie per la visione! Grazie a tutti!